La morte del bambino di 5 mesi di perdifumo ha scosso tutta la comunità del borgo salernitano che si è stretta intorno ai familiari del piccolo per dargli conforto in questo momento così drammatico. Intanto si continua ad indagare dopo che i genitori del bambino hanno presentato formalmente denuncia ai carabinieri della compagnia di Agropoli. Sono tante le domande che al momento non trovano risposta. Cos'è accaduto davvero? E soprattutto il bambino si poteva salvare? Il piccolo, solo due giorni prima di morire, era stato visitato a Ruggi di Salerno poiché accusava dei problemi respiratori. Qui però, dopo i controlli, non era stata riscontrata una particolare criticità nel quadro clinico tanto che è stato dimesso dal breve ricovero e ha fatto ritorno a casa. Le condizioni del bambino però sono peggiorate nel giro di pochi giorni e nonostante la corsa in ospedale a Battipaglia il piccolo è deceduto. La salma si trova ora nell'obitorio del Santa Maria della Speranza in attesa della decisione del magistrato sull'effettuare o meno l'esame otoptico. Ad indagare sul caso la procura di Vallo della Lucania che ha posto sotto sequestro le cartelle cliniche di entrambi gli ospedali che hanno prestato soccorso al piccolo. Resta lo sconcerto e la tristezza per questa tragica vicenda ma c'è soprattutto la voglia di capire i motivi per cui un bambino di soli cinque mesi ha perso la vita. Grazie. 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 Grazie.